La promessa si avventura in nuovi e avvincenti capitoli nelle sue puntate spagnole, con Ximena sempre più al centro della scena. La sua intricata rete di menzogne, 3A, cui una gravidanza inventata, sta per portarla su un terreno scivoloso, dove ogni passo falso potrebbe rivelare la verità. Ximena, consapevole della precarietà della sua posizione, si trova sull'orlo di un abisso di conseguenze. Ecco cosa sta per accadere nel prossimo sviluppo della trama. Prima di immergerti in questo video, clicca su iscriviti e sulla campanella per non perderti mai un aggiornamento! Nelle appassionanti anticipazioni di La promessa, in Spagna, Ximena è intrappolata in una spirale di inganni, con la sua falsa gravidanza al centro del dramma. In Italia, tutti attendono con ansia le nozze tra Manuel e Ximena, mentre in Spagna il matrimonio è già stato celebrato, sebbene non senza intoppi e tensioni. Manuel è segretamente invaghito di Ana, e vede in Ximena una figura gelosa e oppressiva. Le vicende spagnole sono contrassegnate da continui scontri e tensioni, che spingono Manuel a valutare seriamente l'opportunità di trasferirsi per un'offerta lavorativa nel settore aeronautico, propostagli da un amico. Questa eventualità genera malcontento, in particolare in Ximena, che vede nel possibile allontanamento di Manuel una minaccia alla loro relazione. In un audace colpo di scena, Ximena dichiara di essere incinta, un annuncio che sconvolge Manuel, costringendolo a rimandare il viaggio e a confrontarsi con la prospettiva di diventare padre. Con il trascorrere del tempo, la trama si infittisce, la situazione diventa sempre più intricata per Ximena. Manuel, preoccupato per la salute della moglie e del nascituro, convoca un medico per monitorare la gravidanza e inizia a nutrire dubbi sulla mancata crescita dell'addome di Ximena. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora, proseguiamo con il video. Quest'ultima, colta dal panico, si ritrova senza scuse plausibili, conscia che non può continuare a ingannare tutti con false apparenze. L'angoscia di Ximena cresce, avvicinandola sempre più al momento in cui la verità verrà a galla. Ximena, sempre più intrappolata nella sua rete di menzogne, sente il peso della paura che la sua ingannevole gravidanza possa essere presto scoperta. In cerca di un confidante, si rivolge a sua madre, l'unico sostegno in questa difficile situazione. In un momento di disperata sincerità, Ximena confida alla madre la verità. Non è incinta. La reazione della madre è un misto di shock e comprensione, poiché capisce che la figlia ha tessuto questa menzogna per trattenere Manuel, temendo di perderlo. La madre di Ximena, in un tentativo di trovare una soluzione, propone due percorsi arditi. Il primo consiglio è quello di condividere una notte di passione con Manuel, nella speranza di una vera gravidanza, che potrebbe giustificare un eventuale ritardo del parto. La seconda opzione è ancora più drastica, inscenare un aborto spontaneo e poi tentare realmente di concepire un bambino. Ximena, di fronte a queste due possibilità, appare confusa e indecisa, il suo stato mentale sempre più instabile, aggravato da una crescente gelosia nei confronti di Manuel. La situazione di Ximena solleva interrogativi cruciali. Riuscirà a mantenere il segreto ancora per molto tempo? Qualcuno scoprirà la verità sulla sua falsa gravidanza? E se sì, come reagiranno gli altri personaggi a questa rivelazione? La trama si addensa e il destino di Ximena pende a un filo. Invitiamo i nostri spettatori a condividere le loro opinioni e previsioni nei commenti. Come si evolverà questa intricata vicenda? La vostra analisi e i vostri pensieri sono essenziali per dipanare questo complesso intreccio narrativo.